Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo di sono GameTime e bentornati su Fortnite Perché questo prologo prima del video? Per dirvi che semplicemente Fortnite ultimamente sta facendo un po' schifo e non riesco a registrarci dei video completi E visto che il reciclaggio di video andati a male di Fortnite vi piace così tanto Ecco per il secondo episodio, insegnerò a giocare ad una nabba Combatterò contro due persone E farò delle partite veramente Brutte Buona visione Sono sopravvocato Piccona la piccona la piccona Piccona la piccona la non me, lei Dai manca poco Vieni qua, rianima a me, rianima a me, girati Girati Quadrato, tieni premuto Vieni, torniamo alla nostra base No c'è gente, vedi È appena uscito uno Due Stai giù, stai giù, stai giù Ci hanno visti Come fai? Grandissimo Stanno arrivando Dov'è il camperone? Dai, io mi diverto troppo con sto ballo, è troppo bello Bello il vantino Ma non è altrettanto easy Ammazzare me Ma che ti credi? Uno è andato giù Ah ma era solo lui? Dario ma dove sei? Grandissimo Dario perché il napo ci uccide Dai Dario facciamo gli scacchini Dai ho tirato una cecchinata Quello ti sei sbagliato Dario vieni Vieni, vieni Ora si balla Ora si balla Che cacchio? Mamma come l'avete fatto a zà? No Che palle E lì non puoi scappare da lì eh Infatti non scappo Quanto hai? Io? Quanto abitai? Quanto? Io non ho sei E io ho 21 E spawna Dai rivieni Poi ci dai dei nabbi a noi Ma vai Cioè questo si va a nascondere sotto i cespugli E poi mi viene a dare dei nabbi a me Cioè Davide è loco come le banane Dai ho fatto 94 Eh 57 Ma va a cacare Vabbè Vabbè Non dà un cammetto Vabbè fallo Vabbè fallo Vedi poi Aspetta Sì ma 25 A meno Cioè O è nabba la persona Con chi sta in squadra Oh non è possibile 79 79 Ne uscite due Tanti faccio l'ultimo fight A parte Dammi me tre Muori i dati faccio l'ultimo fight Leilia E vado Ora mi faccio nello scoop Ma rispettare i facciano il scoop No tu Se non gli fai nulla Oh nello no scoop La faccio del no scoop Oh non salta più il mio Ma non salta più sta merda Dai Dario kill Ve l'ho fatto pure vedere 13 Io 28 Fermi Fermi Allora 13 e 28 Dai conto se Dario Non ci voglio Dario 28 fa 40 Voi quanti ne avete? 15 Io 15 30 Ne avete 10 in più Dario